All'indomani del terremoto del 31 ottobre 2002 ospitò gli sfollati del paese più colpito dal sisma. Ora il villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia si appresta a diventare un centro di prima accoglienza per migranti. L'appalto da oltre 3 milioni di euro che riguarda la sistemazione e l'adeguamento delle casette di legno alla nuova destinazione d'uso e ormai alle battute finali, con gli ultimi dettagli che riguardano la fase di aggiudicazione definitiva alla ditta CS e SRL con serie a vinchiaturo. Ci sarà quindi tempo per eventuali ricorsi. Se non ci saranno stop, seguiranno la firma del contratto e la consegna dei lavori. A distanza di oltre 14 anni dagli eventi, le strutture prefabbricate accusano i segni del tempo. Non sono mancati furti ed episodi di sciacallaggio. Sono 130 le casette per circa 270 unità abitative. Il villaggio ospita anche una scuola che sarà destinata a mensa, un campo di calcio in erbetta sintetica, altri impianti, spazi comuni e servizi. Il numero massimo previsto per l'accoglienza dei migranti è calcolato in 500 persone, dando preferenza alle famiglie con bambini. Si valuta la possibilità di ospitare anche una cinquantina di minori non accompagnati. Il bando per i servizi di accoglienza e ospitalità sarà pubblicato nel corso dei lavori di adeguamento. Il Comune e la Prefettura hanno stipulato un'apposita convenzione, secondo le indicazioni pervenute dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e di Immigrazione. Il tema è stato affrontato in via preliminare anche nel corso della prima visita istituzionale in paese del nuovo prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, che si è confrontata con il sindaco Luigi Barbieri e l'amministrazione comunale. Seguiranno altri incontri per approfondire le modalità di accoglienza e individuare una strategia di sicurezza e coordinamento che vada a salvaguardare il tessuto sociale dell'intero territorio, quello dell'area del cratere sismico. Grazie.